Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un Get Ready With Me che non facevamo davvero da un sacco di tempo, ho un sacco di cose da farvi vedere, da testare vi ho fatto un piccolo sondaggino su Instagram per scegliere il make-up di oggi, questo è il risultato finale ma tra pochi secondi invece torneremo indietro nel tempo e ricominceremo da capo un po' per farlo insieme stavo pensando un pochino a come impostare il discorso, quindi questo sarà un video davvero molto chiacchiericcio immaginiamoci di essere vecchissime e di poter acquistare tutto quello che vorremmo per entrare proprio nelle atmosfere di questo periodo che io chiamo Spooky Season, chiamiamola Harvest Season chiamiamola Stagione di Samane, insomma tutto quello che preferite, ecco insomma ottobre, inizio novembre che sono per me un po' proprio il riassunto dell'autunno nella sua atmosfera più dark e non solo e quindi niente direi che insomma vi elencherò un po' di cose che secondo me sono i miei preferiti, ok? ma in una maniera un po' diversa dal solito, quindi immaginiamoci di poter acquistare tutto e di poter comprare tutto e insomma per entrare a pieno titolo nella Spooky Season quindi niente direi che è arrivato il momento di tornare indietro nel tempo e ricominciamo questo Get Ready With Me insieme quindi eccoci, allora adesso come sempre andremo a non vedere più niente perché mi tolgo effettivamente gli occhiali, ho fatto anche la coda così non facciamo dei danni e iniziamo iniziamo dagli occhi perché essendo un make up abbastanza denso e alcuni di questi ombretti, vedrete, sono un po' polverosi di solito preferisco fare gli occhi e poi la base vabbè queste sono le informazioni di servizio che a molti di voi non fregano assolutamente una cippa però io lo dico, giusto perché se vedete che non faccio prima la base è per quello allora, in tutto questo chiacchiericcio volevo raccontarvi un pochino cioè ipotizziamo di essere ricche ipotizziamo di poter fare scorta di tutto il materiale adatto a questo periodo a quest'ottobre, a questo Halloween e direi che ci sono tante cosine che mi piacerebbe insomma avere facciamo un po' una wishlist dei sogni allora, oggi intanto vi introduco che andrò a truccarmi con l'Intergalactic di Geoly Beauty sì, ve la dovevo far vedere quest'estate in teoria ma insomma è andato un po' tutto in vacca quest'estate è la mia programmazione quindi non sono riuscita a farvi niente ho già le sopracciglia fatte perché cioè vi spiegherò un giorno come sta andando la questione e direi di iniziare e non andare avanti con gli indugi anche perché sto rivaltando tutta la roba che sta sul tavolo quindi insomma iniziamo allora, innanzitutto priming, priming occhi ok, sto usando questo qua di Morphe con il quale mi sto trovando abbastanza bene anche perché l'ho trovato in super sconto quindi allora, come sempre questa è una sorta di preferito ipotetico una sorta di wishlist ipotetica cioè se io dovessi avere la possibilità di non so, una card che mi viene donata da migliaia e migliaia e migliaia di euro cosa che non è così però insomma noi siamo qua per sognare mica siamo qua per fare delle cose serie e anche questo non sarà un video estremamente serio per una volta tanto su questo canale ok si, si può usare il pennellino io uso le dita perché mi trovo molto più comoda c'erano due opzioni sull'instagram che vi avevo messo da scegliere e ha vinto palesemente il trucco viola infatti quando penso a tipo autunno ma anche e soprattutto a spooky season quindi stagione un po' d'archettona mi viene sempre in mente qualcosa di abbastanza terroso con questi colori ispirati ovviamente agli alberi insomma parte naturale eccetera quindi i rossi, i gialli gli ocra i verdi eccetera però allo stesso tempo la spooky season quindi mi vengono in mente i viola i neri i colori anche un po' fluo ci sono tante cose che si potrebbero fare quindi oggi andiamo di viola perché avete votato il viola quindi tentiamo di ricreare un po' a caso questa cosa qua che ho visto e boh vediamo come fare allora partiamo con un pennellino un po' ampio che così ci andiamo a spolverare una manciata di bubble pink che si chiama asteroid dalla palette allora partiamo come sempre dalle categorie musica ok ah in questa occasione ok io ho creato diverso tempo fa una playlist che si chiama dark academia non andrò a diciamo esplorare tutte le band che vi vorrei suggerire per questo periodo perché se no stiamo qua 28 anni però vi suggerisco tantissimo di dare un'occhiata a questa playlist che trovate giù linkata nell'info box perché c'è tutto quello che deve esserci in questa stagione dal punto di vista musicale si chiama dark academia perché è proprio la mia interpretazione dell'ambito dark academia che insomma discuteremo in altri punti in questo in questo mese perché vorrei fare una discussione a uno dei miei soliti pippotti e insomma voglio vedere cosa salta fuori e comunque come vedete questa palettina insomma ha questi colori parecchio fluo cioè parecchio spinti no? però in realtà per dire questo è un colore che ho utilizzato da persone che non fanno le cose che faccio io alla fine tutti i giorni è rosa un po' saturo super bello peraltro ma io allungo perché questo è il mio colore chiamiamolo transizione ma cosa stiamo dicendo questo sarà un colore giusto per dare un po' una sfumatura un pelo più chiara a tutto ciò che ci andremo a mettere sopra abbastanza allungata anche qua mi sembra guarda ultima botta giusto per e poi anche qua ci siamo quindi musicalmente diciamo che non volendo elencare un po' tutto quello che potrebbe starci perché la musica dark ma dark in senso ampio quindi quando io penso a dark penso a new wave dark wave gothic rock penso a showgaze penso penso a troppi generi ma penso anche a strumentale penso anche a musica classica penso a tantissime cose no e quindi le ho messe tutte insieme cioè ciò che secondo me è realistico e valido va messo tutti insieme però vi dico anche questa cosa perché la trovo cioè diciamo una una rilevanza non da poco quando io penso a spooky season cioè la colonna sonora di base che parte è bella lucosi's dead cioè conveniamo tutti che almeno quella quella canzone dei bow house è tipo la colonna sonora di questo mese cioè è proprio l'intro di tutto il mese vabbè mi sto delirando come solito ok qua secondo me ci siamo l'effetto non mi sembra male quindi andiamo a pacchettare sugli occhi allora ecco questo io volevo usare questo come pennellino che è un morphe ma ci ho messo su qua del marrone e non l'ho lavato quindi cambieremo obiettivo boh tutto ciò che volevo usare che mi serviva da usare lì c'è anche qua c'è del marrone brava ok no ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo usiamo un pennellino piatto con questo andiamo a picchiettare anti matte che è questo viola super saturo super puro ed è bellissimo vabbè intanto andiamo avanti con i nostri i nostri sogni diciamo che in questo periodo se parliamo invece di libri e libri che in teoria dovrebbero in qualche modo adesso voi vedrete pochissimi in camera questo colore anche questo lo picchietto un po' in quest'area qua in maniera un po' più densa che poi adesso andiamo a sfumare anche questo in realtà quindi neanche con troppa precisione perché anche questo sarà parte della transizione verso il colore più scuro io amo questo colore perché è bellissimo allora quando penso ai libri ok ci stavo un po' pensando cioè a cosa quali sono un po' gli inni di questa stagione e non vorrei andare sulle banalità delle banalità quindi è ovvio che ci sono tutta la parte di letteratura gotica diciamo un po' scontati come possono essere un Frankenstein Dracula o insomma tutto quello che fa parte di di questa ambientazione eccetera quindi io vi suggerisco tre draghi ok tre draghi di Oscar Vault che probabilmente racchiudono tre mood diversi per raccontare la spooky season uno è il drago dedicato a Ray Bradbury che si chiama proprio Halloween dove c'è tra le altre cose il racconto dell'albero di Halloween poi c'è quello che è uno dei miei preferiti è Something Wicked This Way Comes ovvero il popolo dell'autunno che è proprio uno dei miei racconti preferiti di Bradbury e non accano invece anche altre racconte tra cui il cimitero eccetera eccetera quindi insomma poi sapete che Bradbury è uno dei miei autori preferiti li voglio tanto 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 bene perché ha fatto cose magnifiche e quindi insomma quando io penso a questo periodo lo associo automaticamente a quest'autore e poi lo associo ad altri due autori in particolare e quindi uno non vi stupirà per niente e l'altro nemmeno quindi quando penso ai draghi insomma che potete tranquillamente raccogliere innanzitutto andiamo su Lovecraft è un super Lovecraft raccolto che raccoglie i miti di Cthulhu e secondo me quando si parla invece di letteratura horror o comunque terrore e di quello poi più profondo di quello proprio più spaventoso di quello che risulta incontrollabile e indecifrabile lui è la prima persona che mi viene in mente e quindi mi pare anche quasi naturale citarlo allora qua come vedete ho intensificato parecchio rispetto a questo lato mentre qua gli vado davvero a picchiettare sopra il colore in modo che rimanga un po' più solido rispetto magari alle aree più sfumate poi vediamo di qua di fare una cosa simile ma comunque ci proviamo è un processo un po' lungo è per molte persone un po' noioso per me invece molto rilassante allora e in ultimo direi banale scontato ma in fondo è proprio l'anima stessa di questo periodo altro drago dedicato a Edgar Alambo che che non so come dire è proprio tipo l'essenza stessa di tutto cioè la nostalgia la malinconia la perdita l'inquietudine cioè ci sono tutte queste cose che secondo me sono parte di questo periodo perché è un po' questo periodo in cui si celebra anche la tristezza la malinconia sentimenti un po' oscuri di quelli di transizione tra l'altro ho letto una cosa veramente molto bella in un saggio in questi in questo periodo no che magari insomma condivido con voi perché boh trovo sempre una cosa un po' rilevante era un po' che non facevamo delle chiaccherine generiche su queste cose e leggendo un pochino il diverse cose legate al periodo di Samain o comunque in generale ciò che cade in coincidenza con la giornata dei morti una delle grosse tradizioni il motivo per cui si esorcizza moltissimo il periodo tra fine ottobre inizio novembre è quello di superare la paura dell'andare al cimitero o comunque dell'andare a trovare i morti che di solito sono una cosa che ha sempre è stato malinconia tristezza paura inquietudine distacco eccetera nell'umanità e quindi è forse una delle motivazioni antropologiche per il quale questo periodo è diventato così potente e così collettivamente condiviso attraverso i secoli attraverso le differenti tradizioni magari non frega niente però io l'ho trovata anche un'esorcizzazione collettiva dell'andare in un luogo dove non ti fa piacere andare però che lo stai facendo anche per te stesso e per te stessa e anche per distaccarti e dire addio di nuovo celebrare le persone che hai perso non so l'ho trovata una razionalizzazione molto interessante di questo periodo che a me tocca molto perché io ad esempio non riesco cioè ho dei blocchi con i lutti quindi mi è piaciuto leggerlo mi ha dato davvero un po' di contestualizzazione ancora ulteriore di questo periodo che pensavo di conoscere abbastanza bene penso di conoscere abbastanza bene però è stato molto interessante diciamo questa cosa è simile tra un occhio e l'altro sì e vado anche qua in ultimo a intensificare un pochino a picchiettare sopra del pigmento perché alla fine sono quasi dei pigmenti come mi piace questo colore ok anche qua ovviamente ha l'insegna della sobrietà e ora andiamo ovviamente a scurire e fare la parte interna e poi ci cacciamo sopra una quintalata di glitter perché qua la sobrietà non è di casa poi facciamo la base e facciamo la parte sotto in realtà vi devo dire che non ha fatto fallout neanche per sbaglio quindi ora lo faremo quando ci metteremo gli altri colori chi lo sa allora dopo la parte sui libri diciamo per ragione puramente sia atmosferiche che tematiche però anche per mettere tutti insieme vi suggerisco i tre draghi giusto perché sono proprio l'apoteosi di questo periodo e quindi insomma concentrarsi su Lovecraft per la parte più terrore più oscurità più creature da parte di Bradbury perché Bradbury è bravissimo a tenerti sulle spine e a farti venire i brividi e allo stesso tempo Popo perché secondo me racchiude perfettamente il senso di cupezza tristezza malinconia di questo periodo e anche tante cose che hanno a che fare un po' con tutti gli altri due autori invece andiamo sul cinema e le serie tv anche qua diciamo andiamo su cose abbastanza banali perché sono un po' una basic bitch però scusate quanto è bello quanto è bello ho dato solo una picchiettata ok questa è ultraviolet della palette che è questo viola leggermente satinato cioè leggermente satinato è bellissimo anche qua andiamo un po' a devo farlo con un pennellino un po' più piccolo però lo facciamo lo stesso con questo poi andiamo di nuovo a ripassarci ok e in questo caso quando io penso a cinema serie tv cinema ho meno o meno idee quindi ve lo dico non le ho messe giù granché quindi partiamo da serie tv serie tv must secondo me legate al tema oscurità halloween e in generale spooky season sono tre quattro forse allora la prima è sicuramente penny dreadful che se non avete visto perché è probabilmente la serie definitiva per chi ama queste tematiche cioè è bellissima è tutto bellissimo è inquietantissimo vanessa hives aka eva green penso sia l'apoteosi di cosa vuol dire essere fighissime il suo guardaroba lo vorrei moltissimo lo chiedo ogni natale da anni e nessuno mi accontenta è bellissima è bravissima lei ma tutto il cast secondo me funziona alla stragrande cioè è proprio veramente una delle serie definitive mi dispiace mortalmente che sia finita adesso stanno provando a fare penny dreadful los angeles ma secondo me non ha minimamente senso cioè non lo so non ispira neanche è quasi un black dahlia che però non ha non c'entra non c'entra no però se non l'avete mai visto guardate penny dreadful quando penso a ovviamente cose oscure non posso non citare anche almeno le prime due stagioni anche la terza ma coven secondo me è esteticamente bella ma tutto il resto è no mi vengo le prime due stagioni di american horror story penso che la prima sia forse la più riuscita ma ce ne sono anche andando avanti che io ho smesso di seguire a metà perché secondo me american horror story è sempre ottime premesse e poi a un certo punto si perde ma le prime due soprattutto poi la seconda che è completamente fuori di testa secondo me sono quelle perfette da rivedere o da vedere in questo periodo quindi direi assolutamente di di metterla e annoverarla qua un po' scontatino ma direi che ci stava come ci sta sicuramente salem salem è un'altra serie che secondo me è stata molto poco sostenuta pompata perché ci sono degli elementi molto trascini in salem parecchi però secondo me invece è una serie che merita non è una serie che non la trovo una serie così inferiore rispetto a tante altre anzi secondo me su alcune tematiche gestita molto bene fa un ottimo lavoro di ricostruzione anche storica su alcuni aspetti della figura della strega sul resto si è un po' trash su tante cose ma io l'ho trovata molto interessante mi ha sempre piaciuto molto l'ho seguita fino alla fine con grande interesse quindi beh e qua siamo già al circo comunque raga come vedete qua la sobrietà se n'è andata completamente ma d'altronde non eravamo qua per fare le persone sobri portare un po' tutto il colore in modo che sia uniforme il più possibile con gli altri due e poi tornati ad intensificarlo così in modo da averlo abbastanza uniforme su tutta l'area ah poi io avendo la palpebra l'occhio incappucciato quindi praticamente la mia palpebra mobile non si vede se sto così se sto così chiaramente si ma se sto dritta io non ho praticamente la palpebra mobile quindi io devo portare tutto il trucco un po' più su per dargli un po' di senso ah che bello mi piace un sacco sto colore ok poi in ultimo ovviamente mi sembra quasi scontato e banale dirlo anche perché adesso l'hanno rimesso su Prime e praticamente noi l'abbiamo già finito di nuovo il mio millesimo rewatch è Puffy Puffy the Vampire Slayer io la trovo sempre una delle serie più riuscite più riuscite di tutte tra l'altro cioè anche rivedendola a distanza di anni sì ci sono alcuni elementi che secondo me perdono un pochino ma Puffy rimane un ottimo eccellente personaggio le dinamiche rimangono ottime Puffy ha veramente spaccato il culo ma proprio alla stragrande e quindi allora invece passiamo alle categorie frivoline quindi parte vestiti parte beauty eccetera qua insomma immagino che tante persone abbandoneranno la scialuppa ma insomma fingiamo di essere persone ricche qua fingiamo quanto meno poi non so se allora ecco io ora vado a prendere allora non la prendo da scusatemi sto facendo dei discorsi che si sommano ok prima cosa passiamo alla categoria vestiti beauty eccetera invece dall'altro lato vado a creare una leggera profondità nell'occhio solo che nella galaxy palette il nero è un nero molto desaturato cioè nel senso che è in una scala di grigio è un nero grigio lo faccio vedere non è male è anche abbastanza potente ma secondo me qua non ci sta allora vado qua nella fell in dreams di neve a prendere questo colorino che è un viola o desaturato anche in questo tipo ma è già più viola ok che si chiama siamese è un uno scimmerino quindi scurisce ma l'effetto che spero io è che scurisca tenendomi il tono quanto meno ok l'ho picchiettato sto cercando di fare entrambi gli occhi la stessa cosa cioè picchietto solido ecco questo pelino perde è l'unico colore che un pelo ha perso fino adesso e con un pennellino che ora non sto trovando ma l'avevo preparato è stata brava che è questo qui che ho da una vita e questo mi serve per cercare di insomma blendare cioè uniformare un pelino il nero al resto del colore in modo che abbia un suo senso e che vada a scurire ma non a coprire cosa che secondo me un pelo sta facendo quindi dopo ci andiamo a rimettere sopra un altro po' di viola così insomma cerchiamo di portarlo a casa anche perché io penso che viola più scuri di questo non li ho questa palettina di mulac self made ma no dei viola scuri non ci sono insomma facciamo con quello che abbiamo intanto passiamo alla categoria vestiti e accessori ok se io dovessi avere davvero un sacco di soldi cosa che non ho il primo posto in cui li spenderei si chiama blood milk spero e immagino che abbiate già sentito come brand penso che come brand sia la cosa più desiderabile che c'è sono almeno dal loro lancio nel 2008 in cui pramo cose e spero un giorno di essere boh abbastanza ricca da spendere quei soldi in un gioichello almeno in uno poi vorrei tutto ma ok vedete come ho messo il nero l'ho sfumato per creare un po' di profondità ma allo stesso tempo ora gli sto passando sopra un altro po' di viola che era rimasto semplicemente qui in modo da dargli un tono viola e secondo me così è venuto abbastanza bene per ora quindi insomma blood milk vi metto qualche foto qui a fianco mentre io mi picchietto cose sull'occhio io bramo penso ogni cosa hanno fatto delle collezioni negli anni che penso di aver quasi pianto vedendole è veramente una delle cose più belle che esistano cioè c'è veramente dell'artistico a dei livelli inarrivabili altro brand che spero un giorno di potermi permettere cosa che non posso però vabbè noi ci crediamo tantissimo eh vedete il nero spolvera abbastanza rispetto al resto il resto c'eravamo comportati abbastanza bene ma col nero no però non ha rovinato nulla perché quando chiudo gli occhi non ho il pastone tanto dopo qua andremo un po' a pulire e a uniformare con sotto finché non metto il fondotinta poi è anche un po' inutile esagerare nella pulizia che bisognerà ripassarci e pulire comunque altro brand che spero insomma un giorno non so trovi delle motivazioni per mandarmi tutto tutte le sue collezioni si chiama Hogan McLaughlin è un designer americano che crea questi vestiti pazzeschi cioè a me piace molto il suo stile è bello scuro ma allo stesso tempo c'è un'intenzione molto artistica che è la cosa che io amo di più è veramente cioè comprerei tutto se potessi comprerei tutto ma non si può e quindi non compriamo niente e quindi non compriamo niente allora qua allungo e ho questo siccino di qua che mi interrompe proprio il viso quindi devo cercare di allungare e devo farlo anche di qua direi che insomma secondo me come occhi più o meno ci siamo risco velocemente così torno da voi ok ora che ho tolto più o meno tutte le schifezze più o meno quelle che ho visto vado invece a fare un'altra cosa ovvero andiamo a fare la base così intanto vi racconto anche degli altri brand dopo Hogan un altro brand del quale vorrei tutto si chiama Ovate ok Ovate altro brand americano che io amo amo tantissimo e mi piace moltissimo prima di mettere la base metto un pochino di correttore adesso con le luci secondo me non si vedono così tanto ma ho degli occhiai incredibili la luce riflette moltissimo quindi prima del correttore del fondotinta metto proprio un correttore colorato in modo che l'arancione in qualche modo questa specie di arancione un po' chiaro vada un po' ad appianare la situazione che è abbastanza tragica ripeto non si nota a sufficienza con la luce sparaflesciata contro ma qua la situazione occhiaia mi sta scappando di mano non so più come fare sono disperata quindi questa è l'unica soluzione che io adotto sempre quando siamo messi così male ok e poi partiamo sulla base allora altro brand Ovate anche in questo caso linee super essenziali in realtà perché Ovate non elabora tutte queste linee abbastanza neutre che però io sinceramente amo perché mi piace moltissimo il modo in cui cioè sono veramente cose che portabilissime sempre abbastanza oscuretto così ma anche qua il prezzo è abbastanza respingente chiamiamolo respingente perché lo possiamo chiamare in altro modo ma era non mettevo il fondotinta in tutta la faccia da una vita perché con la mascherina ovviamente è inutile mettere il fondotinta almeno per me perché col fondotinta ovviamente vabbè ma in generale con qualsiasi trucco che sia al di sotto degli occhi a me vengono i brufoli mi sta venendo lo schifo come penso un po' tutti quindi l'unica soluzione che ho sperimentato in questi mesi e l'unica cosa che mi impedisce di avere lo schifo in faccia è non mettere trucco quindi io praticamente a parte gli occhi e ovviamente le occhiaie quindi un po' di correttore eccetera non metto niente ne blush ne niente perché veramente mi riempio di schifi quindi preferisco non averli e preferisco non mettere nulla tanto insomma non ho una pelle particolarmente problematica che mi crea cioè sì ho tutta una serie di cosine qui cioè delle vene che si vedono e sono molto visibili sul mio viso però alla fine sti cazzi comunque andando avanti ultima cosa che mi viene da dire a livello di vestiti che vorrei tutto è Rick Owens penso che di Rick Owens io vorrei veramente ogni cosa ma sono estremamente quindi niente altro altro brand che vi consiglio perché io ho appena fatto il mio primo ordine e vorrei tutto di loro è un brand italiano che si chiama Cosmica Gioielli loro creano tutte tutte cose ispirate sono tutte cose fatte a mano innanzitutto che secondo me è super pregio e intanto vado a mettere il correttore sto provando da diversi mesi questo qua di Dior che avevo trovato in offerta a 22 euro quindi un prezzo abbastanza in linea con tanti altri e vi dirò è una delle poche cose che copre veramente molto e non mi segna molto perché io ho il contorno occhi secchissimo ovviamente come tutto il resto della mia pelle questo non mi segna ma copre parecchio quindi insomma sta facendo quello che deve fare vi stavo dicendo Cosmica Gioielli è un brand tra l'altro romagnolo quindi super support e che fa delle cose bellissime ispirate ai segni zodiacali allo spazio al cosmo eccetera quindi insomma per for witches it's perfect mi piace davvero molto e infatti adesso ho appena preso i miei primi due anellini e non vedo l'ora che arrivino ma vorrei tutto del loro catalogo perché hanno tutte queste cosine ispirate le stelle ai segni zodiacali eccetera io infatti ho preso due anellini c'è uno che rappresenta mercurio che è il mio pianeta e l'altro che rappresenta il sole ma perché mi piaceva troppo anche se il sole non è tendenzialmente un mio pianeta però era bellissimo volevo prendere anche il saturno ma non mi piaceva così tanto quindi alla fine ho preso il sole e via e niente per il resto direi che poi altro shop che vi consiglio è apple print shop che è questa illustratrice bravissima che fa tutte cose ispirate alla stagione diciamo dalla harvest season la spooky season eccetera io ho ho comprato un sacco di prints perché mi piacciono moltissimo vado a incipriare un pelo e a bloccare perché il correttore di Dior è sì un po' idratante il problema è che ti lascia tutto il sotto degli occhi completamente lucido lo so ha un effetto un po' strano quindi io che di solito non compatto vado a compattare va bene ci siamo la base mi sembra abbastanza ok ma un muro di cartongesso quindi a posto quindi ora dobbiamo andare sotto l'occhio a unire queste due parti ok e poi andiamo ovviamente a sfumare adesso questo mi sembra un po' grandino come pennello da sfumatura quindi vediamo se c'è qualcosina di più piccolo sì che questo potrebbe andare leggermente più compatto e più piccolo perché se no mi trovo il viola anche della faccia e mi sembrava un po' esagerato molto silenziosa in questo momento va bene dobbiamo andare avanti perché andando avanti c'è tutta la parte beauty allora io ve lo dico c'è un sacco di cose che punto e che secondo me sono perfette per questa harvest season intanto ho ripreso un pochino un pochino di anti-matter come colore che mi aiuta a sfumare viola che era un pelo più scuro e a unirlo alla parte finale dell'occhio così diventa un pelo più sfumato e più chiaro ok un pelo mi piace I like it ok secondo me comunque ci siamo va messo solo il glitterone sopra parlando di beauty io ho un sacco di suggerimenti se vi piacciono palettine che hanno a che fare con l'ambito spooky o comunque con i colori che secondo me raccontano e racchiudono questa stagione ah l'intergalactic che tra l'altro vi consiglio sicuramente è forse più estiva per alcuni versi però alla fine cioè questa sezione secondo me è particolarmente autunnale ho usato molto pochi verdi devo usarli di più vabbè cioè vedete è pieno di glitterini ci sono dei glitterini fucsia questi rosini questi che sono dei colori pazzeschi non volevo usarli ma adesso li uso poi dopo ah c'è Milky Way che è uno dei miei prefe come sto usando moltissimo intergalactic che è un duo chrome cioè sono non volevo usarlo ma Milky Way no Milky Way è più su troppo tenue non lo posso usare quindi pensavo di usare per fare la parte sciprillocchietta dalla Game of Thrones palette questo che si chiama Stormborn che è più glitteroso e viola ma proprio viola intenso e io lo amo è bellissimo venendo ai consigli invece legati è bello è bello è bello abbiamo intensificato parecchio forse non è ancora così intenso così glitteroso come me lo immaginavo però forse è anche sufficiente ma è che io vado super extra quando si tratta di queste cose mi piace molto sono abbastanza soddisfatta di questo make up sobrietà zero ma a noi non interessa la sobrietà comunque venendo invece ai consigli delle palette e vedete l'ho messo con il dito si può mettere anche in realtà con il pennellino bagnato ma chi siamo noi per essere così precisi e bravi nessuno e quindi niente parlando di palette che vi consiglio vabbè la prima è la Falling Dreams ve la consiglio perché quando me l'avevano regalata me l'hanno regalata a Natale scorso la mia collega Alessia a cui voglio un sacco bene devo dire avevo atteso a prenderla io personalmente poi lei me l'ha regalata quindi ho iniziato a pasticciarci come vedete ci sono anche colori abbastanza scavati la cosa che non ti colpisce da vederla da fuori è che è veramente una palette poco saturata cioè sono tutti colori un po' tenui però è una palette nella quale io sono tornata spessissimo soprattutto per i tutti i giorni perché è vero che qua insomma siamo abbastanza extra ma è anche vero che alla fine della fiera non mi interessa sempre sempre essere super extra magari anche al lavoro non voglio colori super saturi e quindi ci sono queste sorti di cioè soprattutto questo mi piace moltissimo che è un grigino tendente al violaccio poi c'è questo bianco che aiuta un bianco rosino quindi aiuta anche un po' a dare dei punti luce ci sono questi per scurire ci sono questi colori che sono sì degli shimmer ma non super ultra quindi questa è una palette che io consiglio un sacco perché la sto usando moltissimo ok farò un'aggiunta perché sono una pazza al mega e ci mettiamo anche una robina di mulac vecchia un po' vecchia però che è questo colorino qua lo metto un po' qua in fondo sì non è che dà un effetto particolarmente visibile però gli dava quel po' in più secondo me ci sta cioè primissimo suggerimento chiaramente prendete la milk palette di mulac comunque ho fatto un danno riuscite a essere brava quindi se andiamo a coprire riuscite a essere bravissima invece qua ho fatto un danno ora con le dita brava brava bravissima per me quella palette io non l'ho presa perché ho davvero tanti colori simili tra l'altro alcuni anche già di mulac ma prendetela cioè urla autunno in ogni dove ci sono questi rossi questi aranciati molto caldi è una palette calda ed è bellissima c'è questo giallo che mi piace molto e poi ci sono i duo chrome comunque mulac per me è best brand ever quindi vi suggerisco assolutamente di comprare tutto ciò che hanno nello shop primo perché è quasi tutta composizione naturale e questo secondo me va iper premiato rispetto a tante altre cose anche neve ovviamente però raga ha delle performance mulac che io non ho mai ritrovato in altri in altri palettes davvero vado a mettere l'eyeliner e torno così facciamo anche il resto della base e vi racconto le ultime palette che vi suggerisco ok dato l'eyeliner ultimamente sto usando questo di morphe non è un brand che io amo supportare però devo dire che questo è veramente un grandissimo eyeliner vengo da addirittura una doppia stagione di Deep Love di Clio che secondo me è un ottimo anche questo eyeliner e io penso di usarlo da quando sono alle medie tutti i giorni non riesco a vedermi senza eyeliner allora in realtà per fare anche la base viso avevo preso la Sassy di Mulac ma questa è una palette calda e secondo me non ci sta a dire nulla con il makeup quindi vado a prendere le altre cosine che mi aiutano invece a fare la base più fredda allora intanto vado a fare un po' di bronzing con Shade and Light di Kat Von D che è un marrone più freddo quindi dovrebbe essere più adatto e suggerimenti altra palette che secondo me è bellissima se non vi piace quella di Mulac perché magari c'ha dei colori un po' difficilini da lavorare o da mixare o non riuscite a capire bene cosa ci potreste fare suggerimento è la Brew Palette di September Rose Cosmetics è un brand inglese di una ragazza nera che secondo me è bellissimo se io non avessi già quei colori quella palette sarebbe mia perché è veramente bellissima tutti questi colori molto caldi con una saturazione pazzesca infatti appena uscirà una palette dove io non ho quei colori sarà mia sarà tutto mio è uno dei brand che più mi piace per ciò che fa per le performance eccetera quindi più almini brand quindi insomma sempre consigliato rispetto a quelli più grossi e commercializzati ovunque direi che qua siamo anche a posto se no finiamo per sembrare mortissia comunque no non è che siamo a posto ok in ultimo è banale dirlo vi suggerisco come sempre le Kaleidos Palette quando io penso a questa stagione penso sempre a loro ma io penso a loro in tutte le stagioni in realtà Kaleidos secondo me è perfetta per tutta una serie di motivi al di là del fatto che è il mio brand preferito a livello di performance cioè devo ancora trovare qualcuno che fa le palettes che costano così e fanno quelle cose lì cioè sono pazzesche vediamo come va col blush freddo che su di me non sta particolarmente bene ma faremo in modo che stia in qualche modo mi sembra neanche troppo freddo vabbè in qualche modo dobbiamo far funzionare che vedevo di comunque Kaleidos ha due palettes viola una di quelle io le ho ma ne è uscita adesso una sui toni più freddi che è bellissima è bellissima e poi ci sono quella sui toni dei verdi che per me è la loro best palette cioè proprio è bellissima questi colori che secondo me potete tranquillamente gestirvi come meglio credete ed è bellissima lo ripeterò sempre poi ce ne sono sui toni caldini marroncini un po' più basic cioè una appena uscita che è sui toni leggermente più freddi e poi c'è quella che ho anche io che l'avevo presa nel trio che invece ha dei rossi ed è molto più calda non è particolarmente autunno non un urla autunno ma unita a tutte le altre vedendole insieme cioè quello è l'autunno per me quello è assolutamente la spooky season in più veramente è un brand pazzesco io direi che ci siamo rossetto e poi siamo pronte eccoci tornati sia con gli occhiali insomma quindi sto vedendo e in più anche con il rossetto in questo caso ho usato gift and darkness di revolution che è un rossetto che ho da un po' è un grigio scuro come vedete così però sinceramente non tiene granché quindi non lo uso molto spesso le performance fanno un po' schifo ma d'altronde è direi evolution l'avrò pagato due euro quindi non è che pretendiamo granché quindi niente questo è il make up di oggi vi lascio anche qualche inquadratura un po' più da vicino e spero che insomma vi sia piaciuta questa chiacchierata volevo tornare con un po' di calma e con un po' di video frivolini in modo da insomma non appesantire troppo insomma questo spero che sia un mese intenso per il canale spero di riuscire a fare tutto quello che devo fare perché ho scritto tanti video e il 27 tra l'altro è il compleanno del canale quindi facciamo tre anni insieme e questa cosa mi fa davvero un sacco piacere ci tengo particolarmente spero che questo video vi sia piaciuto insomma vi abbia tenuto compagnia un video un po' chiacchericcio un po' a caso però volevo davvero fare una roba un po' tranquilla e sciallissima io che mi metto sempre 800 milioni di pare e spero anche che i suggerimenti insomma vi siano piaciuti vi siano risultati interessanti tutti i suggerimenti insomma trovate giù nell'infobox tutto e niente io direi che per oggi è tutto noi ci vediamo nei prossimi giorni con tutti i video che arriveranno legati a tutti suggerimenti e consigli tematici e niente e poi insieme per festeggiare il compleanno del canale io come sempre vi ringrazio tantissimo per essere stati insieme a me e direi che per oggi è tutto per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao ciao